eccoci allora innanzitutto buonasera grazie per la vostra presenza e volevo ringraziare innanzitutto la biblioteca canova isolotto che ci ospita questa sera questa bellissima struttura e la sinodoro per averci dato la possibilità questa sera di parlare di di questo libro scrivere per resistere il decameron ai tempi del covid curato da alessa barbagli insegnante di lettere nelle nella scuola secondaria di primo grado con una lunga esperienza di ricerca educativa parleremo dei contenuti di queste pagine con oltre che con alessia con letizia del pace psichiatra e psicoterapeuta con marina longo insegnante di lettere nelle scuole superiori e poi con me antonio montanaro sono un giornalista del corriere fiorentino e ho il compito di cominciare a svelarvi qualche aspetto di questo di questo libro allora scrivere per resistere il decameron ai tempi del covid è innanzitutto un'opera collettiva prendendo spunto dalle novelle della celebre opera di boccaccio la classe di alessia una seconda media di una scuola di roma dal primo giorno del lockdown il 4 marzo 2020 e per le sei settimane successive ha dato vita a un nuovo decameron possiamo chiamarlo decameron 2.0 forse 4.0 visto che qui insomma in rete le cose vanno molto più veloci e quindi in pratica ogni componente della classe a turno ha proposto un tema a partire dal quale poi gli altri hanno scritto una storia in questo modo 24 ragazzi e ragazze hanno potuto raccontarsi a raccontare come stavano vivendo quei giorni così particolari così duri anche soprattutto perché gli adolescenti avevano ancora meno occasioni del solito di far sentire la loro voce in questo libro insieme agli oltre 100 racconti nati in quei giorni sono raccolti anche contributi di esperti e di studiosi che hanno proposto varie interessanti chiavi di lettura soprattutto sul senso della scrittura come resistenza ora pian piano scopriremo un po tutti gli aspetti di questa interessante e preziosa opera io da ex bambino adolescente che amava molto scrivere poi la scrittura è diventata da adulto una parte fondamentale del mio lavoro voglio cominciare proprio dall'uso della parola la parola in quel oramai famoso e neanche troppo lontano 4 marzo di colpo è diventata lo strumento principale in molti casi anche l'unico per fare rapporto con la propria comunità che poteva essere come in questo caso la scuola ma anche gli ambienti di lavoro i gruppi di amici il gruppo della squadra di pallavolo eccetera eccetera venendo di colpo a mancare l'elemento fisico gli abbracci gli sguardi gli odori siamo stati costretti ad usare di più la parola per restare aggrappati al mondo cioè per restare legati a quella dimensione affettiva che il covid ha messo improvvisamente alla prova la parola è stata importante sì all'interno delle proprie abitazioni in cui eravamo obbligati a rimanere perché ci ha spinti a parlare a comunicare di più innanzitutto con i propri familiari o con i propri compagni e le proprie compagne e non sempre l'effetto bisogna anche dirlo è stato positivo ma lo è stato soprattutto verso l'esterno perché attraverso la parola e la scrittura in particolar modo con l'utilizzo di whatsapp facebook le mail o racconti come testimonia a quest'opera collettiva che stiamo presentando siamo stati spinti a cercare in altro modo quello che la comparsa del covid sembrava ci stesse togliendo cioè il contatto umano non un contatto fisico ma un contatto più profondo che andasse a toccare direttamente la nostra dimensione interna questo libro fatto di tante voci che hanno dato vita a una sinfonia di parole o per riportare una suggestione proposta dal maestro e scrittore franco lorenzoni nella prefazione a una coinvolgente opera di improvvisazione jazz è stato come dicevo è nato come dicevo sotto la guida di alessia barbagli che ha fatto quello che ogni docente dovrebbe fare soprattutto soprattutto in età delicata come quella dei dodici anni di cui poi ci parlerà con più precisione letizia cioè che ha fatto alessia ha dato lo spunto ha dato ai ragazzi e alle ragazze della classe della sua classe un incipit dal quale partire per trovare per sviluppare in autonomia quella fantasia quella creatività quella carica di vitalità che è propria degli adolescenti mi soffermo voglio soffermarmi sulla parte finale del libro dove la curatrice riporta le impressioni dei ragazzi e delle ragazze dopo le sei settimane di esercizio con la scrittura ci sono degli spunti di riflessione molto interessanti anche per chi come me non lavora nella scuola ma lavora con le parole per per fare informazione scrive uno degli studenti beh tra la prima e l'ultima novella i cambiamenti sono evidenti come ad esempio il modo in cui ho scelto le parole che mi sembravano più appropriate che è andato di novella in novella sempre migliorando ma anche la struttura del racconto è migliorata ecco in questa frase ho scelto questa ma ce ne sono tantissime altre che testimoniano questa questa capacità c'è una consapevolezza straordinaria della della propria ricerca quella che dovrebbe avere ognuno di noi sull'utilizzo delle parole il modo in cui ho scelto le parole utilizza proprio questa questa espressione una operazione che è facile a dirsi ma tutt'altro che semplice da mettere in pratica perché appunto non è una questione meccanica nello scegliere le parole c'è un movimento di ricerca nel senso più ampio e profondo del termine che mette in gioco la sensibilità la fantasia la creatività e anche perché no la fatica di chi scrive quella che Gramsci chiamava la fatica muscolare dello studio ecco mentre leggevo queste novelle mi è venuto in mente un racconto illustrato che leggevo spesso con mia figlia quando quando era più piccola si chiama il piccolo ladro di parole di Natalie Min in questa breve storia illustrata un bambino esce di notte per raccogliere con un retino le parole che escono dai comignoli delle case così scopre le differenze tra una parola e l'altra ma dopo l'incontro con una bambina in cui rimane senza fiato si rende conto che scrive l'autrice le parole che ha raccolto con tanta pazienza non gli servono più a nulla ora deve raccogliere parole nuove ecco l'incontro la relazione con un diverso da sé che ti porta alla ricerca di nuove parole ai poeti per esempio riesce in modo naturale e con effetti imprevedibili anche a loro stessi questa ricerca di parole nuove perché entra in campo quel mondo interno irrazionale che porta a mettere insieme una parola dietro l'altra per creare un senso un'armonia un suono nelle novelle scritte dai ragazzi e delle ragazze della seconda E ci sono immagini perché le parole oltre al suono creano anche delle immagini che mi hanno riportato alla mente alcuni scritti di Rodari di Saramago tanto per citare due grandissimi autori del novecento leggo qualche passaggio Luca il secondo giorno quando parla dei sognatori scrive infatti Valerio metteva un sogno dentro ogni cosa che faceva quando scriveva, quando giocava, quando parlava, quando era contento e quando era triste così quell'azione sarebbe andata in cielo insieme alle stelle quindi se un giorno vedrete apparire nuove stelle o stelle che diventano più luminose saprete che cosa è successo Lara nella novella della prima giornata sul tema dello sfasamento del tempo che impediva di incontrarsi quando si videro presi dalla felicità si scordarono l'incantesimo e piombarono in un profondo abbraccio dal quale nacque un fascio di luce che li portò via e ancora un ultimo passaggio che mi ha colpito quello di Emma nella giornata in cui si parla del viaggio Liliana e Pietro vivevano in un mondo dove non esisteva la luce la maggior parte della gente era depressa perché vedeva tutto o bianco o nero girava la voce che in un paesino ci fosse la luce che si poteva trasportare allora Liliana e Pietro decisero di partire alla ricerca di questa luce qui c'è Saramago, c'è Città, c'è la ricerca dell'isola sconosciuta ci sono tante cose però in queste pagine non c'è solo l'elemento poetico c'è anche un racconto vivo in qualche passaggio anche doloroso di come gli adolescenti hanno vissuto e direi stanno ancora vivendo una fase storica molto complessa che perché ora proprio quando sembrava che si fosse superato il peggio sono subentrate le paure della guerra che forse sono ancora più, come dire, ancora più angoscianti da giornalista dall'inizio del lockdown mi sono trovato spesso a scrivere di scuola prima di questa parolina, di questo acronimo, DAD diventato croce e delizia di insegnanti, studenti e famiglie poi di spazi, non solo fisici, da creare nelle nostre scuole e ancora del coraggio che bisogna avere per osare su nuovi terreni della conoscenza e della formazione e questo esperimento mi ha dato la conferma di una sensazione che ho avuto fin dall'inizio cioè quando l'elemento umano è forte quando è presente non c'è tecnologia che possa raffreddarlo la scuola si fa a scuola e questo è chiaro ma non c'è scuola se l'attività didattica non parte da un rapporto umano e in quei giorni la scuola è stata tenuta viva da centinaia di docenti che hanno sperimentato si sono rimboccati le maniche con gli strumenti a disposizione di cui spesso neanche loro sapevano le potenzialità e quindi hanno fatto di tutto perché gli studenti non si sentissero soli non si sentissero abbandonati e anzi facessero della scuola un elemento di resistenza trasformassero quelle paure in qualcosa di nuovo in qualcosa di bello e così è stato nel caso di questo libro ma anche in altre esperienze che ho avuto modo di scoprire e anche di raccontare sul giornale per il quale lavoro certo non si può nascondere che ci sono state tantissime difficoltà che non tutti ci sono riusciti a fare quello che ha fatto Alessia e tanti altri docenti e che probabilmente queste esperienze sono un'eccezione rispetto a un panorama scolastico molto più complesso e ricco di tante difficoltà sia da parte degli studenti che da parte degli insegnanti da giornalista però mi mancava una testimonianza diretta chiara, non mediata da parte degli adolescenti che ho avuto modo di leggere in queste pagine che mi ha sorpreso e qui vengo alla seconda chiave di lettura di questo libro lo stupore quando l'insegnante si stupisce dei suoi allievi e gli allievi si stupiscono dell'insegnante vuol dire che sta accadendo qualcosa di vitale vuol dire che si è costruito insieme un contesto di apprendimento ricco e creativo sconfiggendo quella noia mortifera e il non senso in cui la scuola rischia troppo spesso di sprofondare scrive ancora Lorenzoni nell'introduzione ecco, penso che lo stupore che non è quello creato ad arte da alcuni titoli di giornale o da alcuni post sui social network fatti apposta per acchiappare dei like ecco, lo stupore sia un elemento imprescindibile della conoscenza dell'altro e di se stessi la capacità di stupirsi di partire ogni volta per dirla ancora con Saramago alla ricerca dell'isola sconosciuta è un altro elemento che emerge lampante dalle novelle pubblicate in questo libro ed emerge anche dalle motivazioni che ognuno dei ragazzi dà nella scelta dei nomi che si sono dati per addentrarsi in questa avventura perché all'inizio Alexia ha chiesto loro di scegliersi un nome e di spiegarlo beh, vi leggo due di queste spiegazioni che secondo me sono significative Gea ho scelto questo nome perché la terra contiene tutti i piccoli segreti che gli abitanti nascondono perché è un posto dove c'è spazio per tutte le persone e ci dà sempre un'altra possibilità ancora Amantea il nome che mi sono scelta significa che nel mondo ci può essere una speranza nell'amore che ti può far innamorare anche con un solo sguardo una cosa semplicissima ma enorme allora io voglio chiudere questa introduzione toccando un altro tema importante di questo libro che è quello del tempo e lo faccio con una citazione di uno scienziato non di un letterato ma di uno scienziato e non è un caso secondo me di Einstein uno dei più forse il più celebre scienziato di tutti i tempi lui scriveva il tempo è relativo il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta accadendo ecco credo che questo libro sia anche un chiaro invito un rapporto tutto nuovo con un tempo lento il tempo della scrittura che è fatto di di riflessione di studio di ricerca ma anche di di creatività una ricerca che ha un obiettivo quello della scelta delle delle parole delle parole che generano emozione movimento e quindi per forza di cosa anche anche conoscenza bene dopo questa introduzione direi di passare a un altro un altro punto di vista il mio è stato il punto di vista di quello di del giornalista di chi lavora con le parole ora passo la parola a Marina Longo che ci darà il punto di vista di chi tutti i giorni poi insegna è a contatto con gli adolescenti e che insomma ha avuto modo anche di insomma trovare degli spunti interessanti in questo libro buon pomeriggio a tutti grazie anche da parte mia insomma c'è una bella atmosfera e questa sala così luminosa fa stare bene anche in un incontro del genere e il grazie soprattutto è a Alessia e è un doppio grazie perché è un grazie da lettrice perché perché ho scoperto veramente attraverso questa lettura la bellezza della fantasia della creatività di questi ragazzi dodicenni ed è un grazie da detta ai lavori appunto perché personalmente trovo che questo libro è una sferzata io l'ho sentito proprio come una sferzata cioè una testimonianza dimostra come quello che si può fare e che si deve avere il coraggio di fare a scuola perché la scuola abbia veramente un senso come stiamo dicendo e soprattutto in un momento come questo mi viene in mente che spessissimo chi è a scuola come me viene inondato da queste buone pratiche si parla di buone pratiche però sono magari proposte o attività che restano isolate e che soprattutto sono pratiche ma senza una teoria dietro non c'è una una visione un'idea forte chiara e coerente di quello che è alla scuola di quello che è l'insegnante lo studente il rapporto e la conoscenza con Alessia condividiamo un lavoro che è all'interno di una fondazione la fondazione Massimo Fagioli e il gruppo di lavoro è appunto orientato alla scuola e quindi stiamo cercando un po' anche insieme con un confronto che è nato da poco ma è già densissimo di riflettere su delle cose che io poi ho ritrovato veramente in maniera lampante in questo libro e quindi cercherei di raccontarveli un po' per come me li sono vissuti io prima di tutto leggendo appunto una cosa che mi ha colpito è che il nome del re o della regina della giornata spesso ricompare nei racconti degli altri compagni di quella giornata e l'ho sentito un po' come un richiamo forse non è soltanto il nome che veniva richiamato forse proprio anche chi stava dietro questo nome che riecheggiava nei compagni che erano a distanza e questo riecheggiare parla di un gruppo esistenza di un gruppo ora Letizia approfondirà meglio questo concetto però per me è un concetto basilare cioè d'accordo c'è stata la dad c'era una difficoltà ma in seconda media neanche in un percorso di cinque anni in un secondo anno di tre questi ragazzi sentivano di appartenere a un gruppo e questo gruppo non è il gruppo che annulla le singole individualità o identità come le vogliamo chiamare è un gruppo che crea relazione appunto questo richiamarsi è una relazione che c'è in una presentazione dell'anno scorso una ragazza diceva che si era ispirata alle poesie a quello che scriveva anche una sua compagna quindi è veramente un riconoscere gli altri e quindi evidentemente anche se stessi in queste relazioni questo l'ho messo un po' a confronto con la realtà in cui spesso ci si trova a scuola che non è di gruppo cioè passa invece un'idea di individualismo di individualismo competitivo in cui la scuola deve preparare al mondo del lavoro e quindi visto che fuori bisogna sgomitare per emergere per avere un lavoro bisogna prepararsi sin dalla scuola e quindi queste individualità questi studenti diventano delle monadi che girano che viaggiano per il proprio conto e un gruppo classe non c'è io mi trovo oggettivamente cioè oggettivamente è proprio una sensazione forte a volte entrano in classe sentire che non c'è questa condivisione anche un po' disperata un po' scoraggiata probabilmente e invece appunto questo viene fuori e viene fuori anche l'aspetto che rappresenta poi la valutazione cioè questo individualismo competitivo si riflette anche sulla valutazione che noi abbiamo a scuola anche qui vi riporto un'esperienza personale di poco tempo fa perché una collega mi ha aperto il registro di classe elettronico io lo vedo dalla mia parte di cielo dell'insegnante l'ho visto finalmente per come lo vedono gli studenti appena aprono il registro compare la media dei voti di tutte le materie con tanto di grafico se la media è in progresso se è in regresso quindi è un'ossessione del voto un'ossessione che hanno i ragazzi a volte la sento pressante pesante per me ma capisco che gli viene inculcata da tutta un'idea di valutazione che identifica con un voto ora proprio nel periodo del lockdown finalmente è venuto è arrivato questo messaggio che bisogna pensare a una valutazione formativa cioè una valutazione nel percorso che è di un anno di due anni ma sospendendo la valutazione purtroppo questo è stato legato a un'emergenza ma non è stato poi tradotto in una buona pratica cioè è rimasta un'esperienza isolata e Alessia invece in questo in questo progetto non soltanto credo perché ci fosse un lockdown ma perché credeva che questo progetto avesse un altro tipo di valutazione ha sospeso la valutazione i voti e lo avete sentito da Antonio prima sono stati ragazzi poi ad autovalutarsi e a comprendere il la ricaduta di questo esercizio quello che avevano veramente imparato quindi c'è un'idea di valutazione che è in questo momento fortemente discriminatoria cioè il voto non dovrebbe forse segnare un passaggio per diversi di noi ma diventa invece proprio un obiettivo ossessivo ed è chiaro che qualsiasi attività perde perde veramente il suo valore perché le prospettive si restringono da questa idea di valutazione che è una valutazione fatta dai ragazzi su se stessi c'è un altro aspetto che è un valore aggiunto del libro Alessia arriva in fondo a questo progetto e fa una sua riflessione una sua autovalutazione di quello che è successo anche lei appunto ti sei stupita anche te di quello che era successo vediamo che cosa se ne può ricavare quale riflessione si può fare allora questo dovrebbe essere un monitoraggio ovvio per le attività che facciamo vi assicuro che questo monitoraggio a scuola è veramente una parte esigua dell'attività quando c'è perché nella scuola primaria forse c'è ancora l'attività di programmazione alle medie non so quanto no alle superiori no ci ritroviamo a disperdere del materiale prezioso degli esperimenti dei progetti che sono preziosi perché quando va bene facciamo una relazione di fine progetto a fine anno ci riuniamo in un collegio fiume per cui leggere queste relazioni fa addormentare tutti gli altri non c'è nessuno che ovviamente sia interessato in quel momento non si vede l'ora ad andare via perché magari in maggio fa caldo non ci si fa più a stare lì dentro e quindi si disperde qualcosa che potrebbe essere invece utilizzato non soltanto dagli insegnanti dai colleghi della stessa materia ma anche da altri per un progetto che sia condiviso e in questo devo dire l'isolamento degli insegnanti per me è uno dei punti veramente dolenti di questa realtà di scuola cioè non riuscire abbiamo avuto il covid ce l'abbiamo ancora insomma il lockdown la dad per cui era difficile anche incontrarsi nei corridoi o nella sala insegnanti adesso che c'è la possibilità comunque non c'è la disposizione mentale non c'è un assetto davvero di confronto l'abbiamo un po' perso o forse non pensiamo che sia possibile che ci porti perché ci sono altre scadenze e questo sarebbe invece appunto credo una condivisione che rafforzerebbe anche la categoria insegnanti che in questo momento è molto smembrata insomma molto smagliata mi sembra come identità e arrivo quindi all'ultimo spunto che secondo me è fondamentale proprio l'identità dell'insegnante su cui stiamo un po' lavorando riflettendo vi ripeto sempre cercando di tradurre una visione che è coerente insomma della scuola e l'identità del docente dell'insegnante che viene fuori da questo libro è di un insegnante che ascolta prima di tutto ascolta si prende il tempo di capire magari interviene lì dove pensa di dover stimolare un intervento in più un'attività in più una partecipazione migliore ma è in attesa di qualcosa che emerga allora questo forse si può ritrovare ancora a livello di lezioni individuali perché una lezione di strumento di musica non sempre però porta diciamo più naturalmente ad aspettare che l'allievo proponga faccia emergere questa creatività nella realtà della scuola curriculare un insegnante è proiettato in una classe di 25 30 persone 30 studenti e questa è ancora la triste realtà e quindi si asserraglia diciamo così arrocca su quello che conosce cioè trasmettere o inculcare dei contenuti senza lasciare il tempo che emerga una risposta in questo volevo anche mi riallaccio a un libro che è uscito da poco che è scritto da Elisabetta Malfitano da Controstoria della Ragione anche in quel libro la proposta è di una materia che sia non chiusa isolata ma che proponga delle domande e quindi che lasci il tempo che queste domande poi si sedimentino e stimolino delle risposte questo al momento non c'è molto difficile obiettivamente difficile perché appunto sono c'è una realtà complessa di tanti studenti ma perché c'è ancora questa idea come dici te di una conoscenza che è trasmissione un travaso da una parte all'altra perché dall'altra bisogna ancora non c'è non c'è materiale bisogna appunto trasmetterlo travasare qualcosa e quindi diciamo questi sono invece questi preziosissimi spunti ci dicono che si deve e appunto lo prendo per me perché è facile a volte scoraggiarsi tornare a quello che si conosce già o che ci dà più sicurezza in realtà si tratta a questo punto di imbarcarsi per una strada che è aperta sapendo che il lockdown è stato solo un detonatore di qualcosa che c'era già individualismo valutazione ossessiva assenza di confronto identità confusa del docente dell'insegnante sono tutti segnali d'allarme che c'erano e che ora sono completamente esplosi quindi non possiamo rientrare dobbiamo imboccare questa strada e lasciare sempre con questa idea però che c'è una visione alla base che non sono tentativi maldestri pratiche così casuali Alessia ha una formazione nella ricerca didattica e lo dimostra in questo libro quindi sfruttiamo tutti gli strumenti condividiamo il materiale e cerchiamo dal basso di trasformare questa scuola forse a un certo punto anche dall'alto qualcuno sarà costretto a seguirci questo è il mio augurio la speranza grazie è un augurio che ci facciamo tutti anche perché giustamente come dicevi forse più che l'epoca delle risposte ne parlavamo prima forse è il momento delle domande cominciare dalle domande mi sembra che negli ultimi tempi si sia un po' invertito si può partire dalle risposte non dalle domande invece dovremmo cominciare a fare più domande forse a proposito di domande di come poi insomma si vive questa età particolare questi ragazzi che hanno scritto queste novelle che è un'età un po' di passaggio quella dei 12 anni passo la parola a Letizia che ci spiega un po' questa età particolare e anche insomma altre cose allora grazie intanto di avermi invitata a parlare di questo libro perché è una grande opportunità per riflettere su tante cose di tante cose ne hanno già parlato i miei compagni di viaggio e io ne approfondirò delle altre allora la pandemia prima e la guerra adesso purtroppo ci costringono a chiederci che cosa ci renda umani e cosa sia davvero importante sviluppare nelle nostre vite per poter fronteggiare eventi storici di questa portata che hanno stravolto direi all'improvviso la nostra quotidianità e hanno anche minato le nostre certezze quando la realtà materiale viene in qualche modo compromessa e mi riferisco al lavoro o alla disponibilità economica e quando i nostri comportamenti sociali vengono fortemente ridotti o la libertà che cosa ci resta cosa rende ancora ricca la nostra vita questo libro ci offre delle risposte e queste sono i rapporti umani la condivisione dei vissuti quindi sentirsi parte di una comunità e la creatività quindi scrivere immaginare inventare storie ci rende umani la pandemia ci ha offerto una grande opportunità indubbiamente quella di scoprire che oltre il movimento del nostro corpo oltre i nostri comportamenti manifesti esiste un altro movimento più invisibile quello della mente soprattutto della mente senza coscienza che si esprime notoriamente nei sogni della notte ma che troppo spesso sottovalutiamo nella mente senza coscienza infatti risiedono gli affetti la fantasia risiedono i sogni la vitalità che ci soccorrono nei momenti di difficoltà perché ci fa partorire nuove idee pensare possibili soluzioni per non succombere e per non credere che la nostra verità risieda soltanto in ciò che facciamo nella realtà esterna quindi ci soccorre ci ha soccorso di fronte all'impossibilità di vivere i rapporti sociali di incontrarsi dal vivo di vivere storie d'amore di persona di svolgere le nostre attività ricreative e in molti di noi ci ha consentito di conservare la speranza in un cambiamento positivo e in questo libro si parla di scrittura come espressione cosciente di questa dimensione creativa della mente e quindi ci mostra quanto la scuola sia preziosa nell'offrire l'opportunità ai ragazzi di sviluppare questa dimensione creativa per trovare un modo di reagire costruttivo alla realtà difficile di questo periodo storico e Alessia in particolare ha fatto leva più o meno consapevolmente non si sa sulle qualità interne naturalmente presenti nei ragazzi di 12 anni allora intanto la flessibilità psichica la loro mente è molto duttile è molto più adattabile ai cambiamenti rispetto a una mente adulta è una mente prevalentemente irrazionale i cui pensieri sono mossi più dagli affetti e dalle emozioni che dalla logica poi hanno una grande fiducia e una grande speranza nel cambiamento nel futuro e anche nelle possibilità umane e poi ricercano il rapporto soprattutto nella dimensione di gruppo come dicevano prima perché il gruppo dei pari è fondamentale nella crescita offre un'occasione di confronto di mettersi nei panni dell'altro di condividere dei nuovi valori la lealtà l'amicizia e poi di scoprire l'amore siamo nella pubertà quindi nell'epoca dei grandi turbamenti fisici e psichici che portano i ragazzi a scoprire nuove sensazioni legate soprattutto a un corpo che sta sbucciando e infatti in queste novelle ci sono tanti rimandi a questa ricerca a questa esigenza di scoprire nuove sensazioni e mi viene in mente una ragazza che scriveva della sensazione del tocco fondamentale in quest'epoca della vita abbracciarsi toccarsi e in quel periodo nel lockdown purtroppo non si poteva fare però nell'immaginazione tutto era possibile per cui lo hanno ovviamente scritto questo libro quindi ci mostra come la scuola possa essere una grande risorsa nel percorso di crescita di fatto è il primo luogo alternativo alla famiglia in cui si sperimenta la propria autonomia e si vivono i primi rapporti sociali alcuni diventano talmente importanti che ci si portano anche nella vita e rapporti non solo con i pari ma anche con i professori che sono nuovi adulti di riferimento la scuola offre strumenti per orientarsi nella vita per conoscere la realtà e anche per ampliare l'orizzonte delle nostre esistenze personali per avere uno sguardo più ampio e cogliere quelle dimensioni che ci rendono tutti uguali come esseri umani quindi dimensioni universali al di là delle differenze socio-economiche e culturali chiudendo la scuola all'improvviso ovviamente sia i ragazzi che i docenti hanno vissuto un disorientamento inevitabile e forse si sono resi conto i ragazzi in quel momento di quanto fosse importante la scuola nelle loro vite ovviamente il grande rischio era quello di bloccarsi in questo ambizioso progetto adolescenziale di trasformare il mondo di fatto abbiamo chiesto loro di chiudersi in casa cioè di fare l'esatto opposto rispetto a quello che la loro età richiedeva cioè invece di scoprirlo il mondo e in diversi casi purtroppo qualcuno per strada si è effettivamente bloccato dopo il primo lockdown che è stato vissuto più o meno come una vacanza successivamente le riaperture e le varie chiusure hanno invece spento l'entusiasmo e anche il coinvolgimento affettivo dei ragazzi verso la vita è andato spegnendosi quindi sono aumentati i casi di dispersione scolastica i vissuti ansiosi depressivi gli agiti auto ed etero diretti quelli aggressivi scusate gli accessi al pronto soccorso sono aumentati sono aumentati i disturbi del comportamento alimentare complici anche i fattori socio-economici e demografici che non dovrebbero costituire delle barriere la scuola dovrebbe dare a tutti le stesse opportunità di realizzazione invece nel caso della DAD purtroppo in alcune zone d'Italia i ragazzi non hanno avuto modo di connettersi non avevano i device oppure si trovavano in situazioni familiari molto disagiate per cui non avevano la calma uno spazio libero per poter seguire il loro percorso didattico e allora alla luce di queste difficoltà che ci sono state sono state serie problematiche apprezziamo ancora di più questo progetto che ci racconta Alessia perché la priorità assoluta era la partecipazione di tutti nessuno escluso e ha usato qualsiasi canale per comunicare con i ragazzi e se un ragazzo o una ragazza non consegnava la novella la professoressa non rimproverava e neanche sollecitava ma mandava un semplice messaggio whatsapp con scritto come stai e con questo lei manifestava questa manifestazione proprio di interesse e di affetto profondo e soprattutto di fiducia verso questi ragazzi perché non partiva dal presupposto che fossero dei furbi che volevano evitare il compito che gli era stato assegnato no ha pensato che forse passava una crisi quel ragazzo o quella ragazza o forse si voleva prendere un tempo un tempo più lungo un tempo di libertà per affiorare per far affiorare nuove idee perché doveva scrivere delle novelle con delle idee nuove e di fatto la sua intuizione è stata giusta perché i ragazzi rispondevano solleciti consegnando appunto le loro novelle e tornavano ad essere presenti quindi la scrittura ha avuto tanti vantaggi ha portato a tanti vantaggi ragazzi il primo quindi il fatto di sentirsi uniti come si diceva prima il fatto di scoprire che esisteva un tempo libero dalla connessione in cui potevano non sentirsi soli perché di fatto il pensare al tema da svolgere su richiesta di un compagno o al tema da proporre ai compagni faceva sì che il rapporto rimanesse sempre bello, vitale e vivo nella mente quindi si manteneva questo contatto affettivo tra di loro e poi ha avuto altri vantaggi la scrittura quello di non sprofondare nella noia e nell'appiattimento perché è un'abilità creativa che stimola la fantasia ha consentito di trovare un senso alla realtà che stavano vivendo in quel momento di riflettere su se stessi sulle loro paure sulle incertezze che erano appunto legate alla pubertà ma anche aggravate da un futuro che sembrava ancora più incerto considerando la realtà storica che stavano vivendo e hanno scelto come forma di racconto quello autobiografico e questo mi ha fatto pensare che fosse un po' la trasformazione di quei momenti di complicità che si creano tra i ragazzi nei pomeriggi passati insieme diventava il racconto autobiografico mancando appunto questi momenti poi la scrittura ha consentito anche di immaginare delle soluzioni creative alla pandemia quindi hanno pensato che per sconfiggere il virus che si nutriva di solitudine e paura si dovessero cercare delle nuove emozioni e soprattutto il senso dell'unione doveva essere sviluppato per cui si sono immaginati un filo rosso che due avventurieri portavano di casa in casa per creare questo senso di unione tra le persone e poi hanno anche pensato come si poteva affrontare la mancanza della libertà e quindi si sono immaginati degli spazi di libertà vissuti e allora sono riaffiorate le immagini del camminare su un campo di grano in una giornata d'estate di arrampicarsi sugli alberi oppure per un ragazzo la libertà pensate un po' era andare a scuola ma non è così incredibile in realtà perché era la libertà fondamentale dallo sguardo dei genitori ok quindi la scuola è effettivamente un luogo in cui si può vivere questa libertà e poi è stata una grande esperienza come hanno già detto i miei compagni di socializzazione e di condivisione il fatto di creare una comunità di scrittori ha fatto sì che si generasse un senso di responsabilità dentro di loro perché la comunità esisteva in quanto esistevano gli scrittori per cui se qualcuno non consegnava la novella tradiva lo spirito di comunità e quindi in qualche modo hanno scoperto questo senso di responsabilità e poi il regalo più grande l'ha fatto questa docente a loro facendoli scrivere perché ha dato loro la possibilità di ritrovare una loro voce fondamentale di sentirsi di nuovo protagonisti in questo processo di conoscenza che si realizza a scuola in questi due anni i ragazzi non hanno avuto tanta voce l'hanno ripresa l'hanno rifatta sentire in maniera forte nelle proteste studentesche dei mesi scorsi quando hanno fatto le occupazioni negli istituti superiori per gridare il loro dissenso verso un'idea di scuola azienda dove la logica della produttività annulla completamente la logica invece della realizzazione dell'identità che dovrebbe essere questa che guida invece la scuola e poi hanno protestato vicino ai lavoratori della GKN oggi c'è la manifestazione per difendere il loro diritto ad avere un futuro allora perché non hanno avuto voce in questi due anni perché purtroppo è successo che con la DAD si sia trasferito il modo di fare didattica semplicemente dall'aula allo schermo e questo non ha funzionato in tanti casi perché lo schermo è diventato un muro invalicabile e i ragazzi sono chiusi in un silenzio che è diventato in diversi casi inaccessibile quindi fondamentale direi avere fiducia nei ragazzi perché escano da questo silenzio perché si sentano liberi di parlare di esprimersi Michelangelo uno dei giovani scrittori racconta nella sua novella di quanto sia incida nelle paure degli adolescenti lo sguardo degli adulti uno sguardo che spesso è di rimprovero gli adulti spesso vedono negli adolescenti dei soggetti pericolosi questo è sempre successo in tutte le epoche storiche soggetti che si mettono a rischio e pericolosi in questo caso la pericolosità era dell'essere un tori invece non è vero affatto perché ragazzi sono stati più responsabili degli adulti in questo periodo di pandemia e quindi Michelangelo dice attenzione perché se voi fate voi adulti fate delle descrizioni mostruose dei cambiamenti caratteriali degli adolescenti gli adolescenti poi hanno paura di crescere quindi bisogna avere fiducia in loro così loro esprimono il meglio di se stessi detto tutto questo se avete ancora cinque minuti da dedicarmi se volete vi racconto un altro vantaggio della scrittura che invece è legato all'identità perché la scrittura può essere una risorsa per resistere allora la scrittura è un'attività complessa che riguarda il corpo e la mente per imparare a scrivere ci vuole tempo occorre una certa maturità psichica e anche fisica perché prima dei cinque anni più o meno non si comincia a scrivere le parole scritte sono delle composizioni di linee sinuose che hanno un movimento assolutamente originale e specifico in ciascuno di noi è la calligrafia la capacità di fare la linea ha origini molto lontane che risalgono addirittura alla nascita quando ha origine il pensiero senza coscienza che oggi nasce come reazione creativa della sostanza cerebrale allo stimolo luminoso con cui il bambino entra in rapporto ancora prima di respirare appena esce dal canale del parto tale stimolo che viene dal mondo non umano è vissuto come aggressivo pertanto l'unico modo che il neonato ha per difendersi è annullarlo e farlo sparire questa difesa psichica finalizzata ad allontanare da sé lo stimolo percepito come violento si chiama pulsione di annullamento e fa il buio ma simultaneamente anziché generarsi un vuoto interiore grazie alla vitalità del neonato si crea un'immagine interna che è la memoria fantasia del rapporto avuto precedentemente con il liquido amniotico alla nascita si realizza il neonato elabora una separazione dalla vita precedentemente avuta nell'utero quindi questo è l'atto creativo del pensiero senza coscienza alla nascita che è la matrice dello sviluppo della vita psichica della possibilità di fantasia e della possibilità di pensiero verbale e parola questa è la teorizzazione di Massimo Fagioli psichiatra e profondo ricercatore che si è soffermato molto a riflettere sulla dinamica della scrittura e ha individuato nel nero della linea la ricreazione di questo primo momento della vita in cui il neonato si rende indifferente verso il mondo non umano per realizzare se stesso e allo stesso tempo nasce dentro di lui l'intuizione e certezza che esiste un altro essere umano simile a lui che lo accoglierà fantasia e ricerca di rapporto sono quindi caratteristiche fondanti dell'identità umana che sono state sviluppate proprio in questo progetto didattico poi allo svezzamento succede un'altra cosa accade un altro movimento creativo del pensiero il bambino vedendo la propria immagine riflessa allo specchio riesce a immaginare una linea che ne definisce il contorno e che lo distingue da tutto ciò che lo circonda quindi se la possibilità di fare la linea origina alla nascita e la prima immagine di linea si crea allo svezzamento entrambe separazioni in cui il bambino realizza la propria identità si può pensare che nella scrittura si dinamizzi qualcosa che ha a che fare con la dinamica della separazione sì in base al modo in cui si vivono le separazioni cambia qualcosa nel modo di scrivere nel modo in cui le parole si compongono insieme per elaborare un pensiero infatti non tutti i testi scritti sono creativi per esserlo occorre che chi scrive abbia conservato affetti e vitalità perché se così non è la mente si raffredda e la mano che scrive scrive solo ripetendo i termini verbali visti pensiamo ai nostri ragazzi dovevano elaborare una separazione dalla vita precedentemente vissuta e anche la separazione fisica dai loro amici abbiamo visto che il rapporto forte che si è creato tra loro e con la docente ha fatto sì che questa separazione fisica non fosse una separazione affettiva non era distanza affettiva questo ha consentito loro di tenere il rapporto e di trasformare i vissuti emotivi in parole i testi scritti quindi sono diventati ricchi di fantasia e hanno raccontato un movimento affettivo profondo che è stata poi la loro risorsa fondamentale per esistere per concludere leggo un passaggio di una novella dal titolo Una giungla di sogni di Michelangelo in seconda giornata assorto nei suoi pensieri Bruno non si accorse della crescita improvvisa di alcuni rampicanti nella sua casa ad un certo punto guardò sbalordito i rampicanti che erano cresciuti tutto intorno e si trovò la manica della maglietta che aveva addosso zuppa si trovava di fronte al camino che in quel momento da cascata di fuoco si trasformò in cascata d'acqua il signor Bruno si alzò di scatto dalla poltroncina su cui era seduto e appoggiò il libro che teneva in mano sulla mensola del camino la camera si infestò di animali di ogni tipo dai rettili agli insetti dai felini fino ai mammiferi la sua piccola casa in via dei platani 124 si era trasformata in un'immensa giungla grazie a tutti grazie a Letizia ci ha dato come sempre i spunti di riflessione molto profondi e nulla c'erano le parlavamo prima con Marina c'era ora tiriamo in ballo anche Alessia perché finora ci ha ascoltato ha sentito tutte le nostre riflessioni però Marina voleva farle una domanda anche per come cominciamo con poi dopo sentiamo allora in una presentazione del libro che era di ottobre del 21 quindi di quest'anno scolastico tu hai letto questa lettera di una delle studentesse della classe che ormai sono in prima liceo e mi ha colpito moltissimo perché parlando dell'origine dei miti di esiodo l'origine del mondo si mostrava un po' delusa forse anche dal racconto che veniva fatto in quel contesto era abituata forse a un altro racconto a un altro lavoro almeno questa è l'idea che mi sono fatta io e quindi mi sono chiesta questi ragazzi adesso che hanno preso intrapreso il percorso delle superiori dei licei come stanno cosa fanno buonasera a tutti io sono emozionatissima per il racconto che avete fatto di questo libro perché veramente avete moltiplicato all'inizio del libro Lorenzoni dice che c'è questa moltiplicazione di storie e voi avete continuato a moltiplicarle effettivamente perché avete dato vita a nuove storie che io ascoltate mi sono commossa eh no hai fatto una domanda secondo me che è importante perché quando si fanno le cose a scuola appunto da insegnante è centrato il problema cioè è importante fare una cosa no anche un progetto che sia un processo però poi il valore di quello che facciamo diventa tale in base a quello che succede dopo perché non è mai fine a se stesso questi ragazzi queste ragazze come stanno adesso dunque vorrei solo fare prima un accenno a come sono stati dopo perché questo è il racconto di quello che è accaduto durante il lockdown poi c'è stato un altro anno in realtà noi abbiamo scoperto che l'anno successivo è stato peggiore dei mesi del lockdown perché c'era una scuola una realtà molto limitata una scuola fortemente limitata ed è stato difficile quello che raccontava prima Letizia di tante situazioni di difficoltà in effetti sono emerse anche in questo gruppo perché tutta la fatica che insomma che abbiamo vissuto tutti poi si è sommata a crisi fisiologiche che potevano vivere quello che però secondo me è successo almeno io l'ho letto in questi termini perché a un certo punto hanno cominciato effettivamente qualcuno a chiedere io non sto tanto bene devo parlare con qualcuno io non sto tanto bene devo parlare con qualcuno anzi mi chiedevano ho bisogno di parlare con lei perché non sto bene ma non tante io ovviamente non sono quella proposta a parlare per cui abbiamo deciso come classe di fare degli incontri con una psicoterapeuta che rispondeva cioè che è arrivata per rispondere a quello che loro chiedevano cioè c'è stata una scatola con le loro dove loro hanno messo dentro alle domande e questo percorso sono stati tre o quattro incontri devo dire alla fine dell'anno bene o male stavano bene stanno bene quindi da questo punto questo per dire che comunque effettivamente è stato pesante quello che è successo e affrontare anche l'anno successivo è stato difficile l'altra cosa io l'ho letta però in termini di hanno individuato il gruppo come una risorsa e come un luogo in cui chiedere perché la richiesta è stata fatta alla classe è stata fatta a me ma è stato accettato cioè è stato chiesto che fosse affrontato in gruppo per cui questo valore del gruppo effettivamente si è mantenuto durante anche l'anno successivo ovviamente adesso loro sono in 24 gruppi diversi 20 forse perché magari qualcuno è in classe nella stessa classe e quello che abbiamo notato è che sono contenti del liceo cioè questa cosa ci ha sorpreso proprio come gruppo insegnanti perché non avviene sempre di entrare in un luogo diverso e essere contenti ma soprattutto io quello che ho notato ma ho incontrato due o tre le ho incontrate proprio due o tre giorni fa è che sono molto consapevoli di quello che può succedere a scuola e di quello che non può succedere nel senso che hanno detto va bene la nostra passione era la scrittura perché effettivamente è diventata una passione trasversale del gruppo è stata un'attività condivisa però noi non si può continuare a svolgere nello stesso modo ci chiedono cose diverse ma noi lo facciamo fuori cioè adesso vogliono costruire un gruppo abbiamo pensato costruiamo un gruppo e continuiamo a vederci ogni tanto quindi quello che io ho visto di loro è una grande consapevolezza che hanno acquisito insomma nel però siccome come diceva Giuseppe Magni in un libro sempre in un altro libro pubblicato dall'asino d'oro imparare a insegnare a chi non vuole imparare i nostri ragazzi sono quelli che noi abbiamo in classe no? perché questi adesso sono in altre classi per cui quelli che io ho adesso devo dire ecco adesso c'è un momento che è veramente difficile mentre tu dicevi mentre tu parlavi di quello che è successo nel corso di questo progetto e diceva un insegnante che ascolta non è immediato che noi cioè questa abitudine all'ascolto e alla fiducia non è dobbiamo far dobbiamo ricordarcelo sempre perché stiamo in un mondo in cui automaticamente non ci viene e quest'anno è successo che faccio un esempio di una classe perché effettivamente ci siamo resi conto che veniva meno nonostante una cioè un'attenzione e un pensiero continuo orientato a ascoltiamoli sentiamo quello che vogliono dire diamole fiducia ci siamo resi conto che c'era un atteggiamento molto passivo poco coinvolto da parte di alcuni ragazzi e alcuni ragazzi di una classe intera alcuni ragazzi del gruppo per cui è chiaro che automaticamente non ci hanno voglia sono abituati a stare a casa sono abituati a non fare le cose però lo abbiamo problematizzato no? abbiamo detto vabbè chissà ma che perché perché non c'è è come se non fossero ci fosse poco entusiasmo per cui abbiamo continuato a proporre con i miei colleghi delle attività e continuavano effettivamente insomma a volte funzionavano a volte non funzionavano poi a un certo punto abbiamo fatto un un laboratorio io ogni tanto provo a vedere di uscire dal aiuto ciò mi sento mi risento la risposta mi sento la la voce insomma abbiamo fatto un laboratorio di poesia in cui mi sono accorta che non l'avevo ascoltata abbastanza perché abbiamo letto il monologo di Mariangela Gualtieri su io non so è un monologo con tante anafore che inizia io non so questo non so e quindi ognuno di loro doveva rispondere doveva inventarsi dei versi che iniziavano con io non so e poi come gruppo dovevano scambiarsi questi versi ognuno rispondere al non so di un compagno o di una compagna non era reciproco era proprio poi ne hanno scelti alcuni e loro hanno composto cioè un gruppo di loro ha composto una poesia fatta di domande e risposte e io mi sono resa conto che la maggior parte di questi io non so riguardava il futuro cioè che adesso me ne leggo alcuni ma mi sono accorta che il problema adesso è come si immaginano loro domani come immaginare se stessi domani quando obiettivamente c'è una realtà che ci viene raccontato che torniamo a questa idea di ritorno alla normalità è terribile perché è falso perché è un inganno perché il ritorno parlare di ritorno significa che ritorniamo alla situazione precedente che non è cioè la realtà è incontrovertibilmente cambiata e allora semplicemente cerchiamo di capire come come è cambiata cosa si può fare perché quello che è cambiato secondo me è la difficoltà di prevedere no? quello che succede cioè noi non sappiamo non riusciamo neanche a programmare un viaggio perché non sappiamo da qui a un'altra città perché non sappiamo se aumentano i contagi se ci chiudono se ci aprono è la realtà cambia qualcosa e in base a questo la scuola dovrebbe intanto proporre degli strumenti che aiutano a pensare come rispondere a questa realtà diversa magari degli strumenti che come diceva Antonio prima aiutino a costruire delle domande diverse e poi come appunto dicevate voi da un mese a questa parte c'è una rappresentazione del mondo che veramente è pesante perché la realtà che è cambiata fino adesso era una realtà materiale cioè è la natura che a un certo punto non abbiamo tutta questa onnipotenza di gestione della natura per cui dobbiamo fare i conti con degli esseri umani meno potenti adesso dobbiamo fare i conti con degli esseri umani meno affidabili cioè più pericolosi o almeno ci vengono raccontati così tanto così in questo modo perché le guerre ci sono state anche prima del 24 febbraio a scuola le studiavamo le guerre che ci sono adesso nel mondo ma quello che conta è l'immagine del mondo che viene raccontata a loro è un'immagine in cui 12-13 anni si affacciano al mondo adulto che stanno per diventare adulti e non sanno che cosa possono e soprattutto a chi fa riferimento per cui adesso quello che io colgo è che loro sono meno un po' delusi cioè io sento una grande delusione ma non perché noi non siamo incapaci di rispondere cioè perché forse siamo troppo frettolosi nel dare delle risposte che non sono quelle di un mondo precedente peraltro quella che tu dicevi la loro preoccupazione per il futuro adesso si è amplificata e io cioè mentre parlavo mi veniva in mente una storia che hanno scritto loro proprio sul futuro e che è incredibilmente adatta a quello che sta succedendo adesso che è Dicea ed è proprio il giorno la giornata mi sembra sia la quinta che è una storia sul futuro una ragazza che ha paura del futuro libri giornali e riviste le mettevano paura parlavano del futuro era una cosa spaventosa lei era decisamente impaurita non usciva di casa perché aveva timore che qualcosa fosse cambiato da quando era uscita l'ultima volta non andava alle feste per paura che fosse cambiato il modo di festeggiare non andava da nessuna parte per terrore di quel maledetto futuro i genitori la imploravano di uscire ma niente la paura lei non dava il cuore ma Greta questo timore lo voleva superare a tutti i costi non ce la faceva più si voleva liberare da questa angosciante paura iniziò quindi a scrivere racconti sul futuro per esprimere la sua immaginazione e iniziò anche a uscire per vedere come il mondo fosse effettivamente cambiato dopo un po' dopo un po' di tempo lei riuscì a superare quella paura che aveva da tantissimo quindi dobbiamo pensare che le paure a volte molte volte travolgono il cuore della gente ma nascondono sempre un lato debole bisogna trovare quel lato e superarle mi sembra veramente visionario come come racconto grazie a tutti grazie a tutti le responsabilità che hanno che abbiamo chiacchi come me fa informazione perché poi sia nella pandemia che ora in questo periodo di guerra c'è effettivamente una rappresentazione come dire esagerata forse di certi di certi aspetti ne parlavamo prima forse manichea no in cui si tende per forza di cose a nascondere la complessità per mostrare il bianco il nero giusto lo sbagliato perché sì perché no questo forse è uno dei difetti dell'informazione italiana in questo momento cioè quello di andare avanti su uno schema consolidato che come dicevi tu prima è di un mondo che forse non c'è più perché è cambiato perché anche questa retorica del ritorno alla normalità di una normalità poi non si sa che cosa sia perché nel frattempo sono successe delle cose abbiamo raccontato di come questi ragazzi ma anche come noi abbiamo vissuto quei momenti così complicati e allora forse bisognerebbe far tesoro anche della didattica a distanza anche di queste esperienze anche di delle nostre paure per cercare di affrontarle ritornando al discorso dell'informazione forse dovrebbe porsi più domande cercare di dare meno certezze ecco è una autocritica che faccio anche a me stesso perché poi a volte noi ci troviamo ad affrontare dei temi non abbiamo quel tempo lento che dovrebbe essere necessario per dare tutti gli elementi di una notità mi ricordo quando ho cominciato a fare questo lavoro ero giovanissimo ero quasi un adolescente avevo vent'anni quindi sono passati già trent'anni quindi c'era la mia caporedattrice che mi diceva sempre che per un giornalista raccontare la verità è come suonare una sinfonia di Beethoven solamente con uno strumento solamente con il flauto come diceva e la sfida poi sta nel riuscire ad ad aumentare gli strumenti no di riuscire a creare quella sinfonia che poi ti fa stare bene perché se tu senti la sinfonia di Beethoven solo con tu che sei musicista non vuol dire tranquillo solamente con un flauto con il piano insomma non è che stai bene non è che ti dà una bella sensazione scusate la divagazione però insomma le parole di Alessia mi hanno spinto comunque a fare questa riflessione non so se ci sono domande eh spunti per osservazioni su quello che abbiamo detto insomma tutti Lucia vuoi dire qualcosa? no no ti guardavi mi guardavi no no non so insomma no un'altra cosa allora do io qualche uno spunto no un'altra cosa mi veniva in mente dai discorsi che si faceva lo dico come come osservatore eh del mondo della scuola ma anche come genitore ne parlavamo prima fuori mentre fumavamo una sigaretta il lockdown ha avuto questa anche quest'altro aspetto che ha portato la scuola nelle case no l'ha portata fisicamente nelle case è una cosa che non si era mai visto prima ma secondo voi volevo farla anche a Letizia ma ad Alessia quanto questo aspetto è stato negativo e quanto è stato positivo perché forse per i ragazzi non è stata poi così una cosa positiva insomma non so chi vuole rispondere Marina Alessia sì insomma in questo esatto no dicevo perché poi insomma come diceva Letizia è stato tolto un elemento essenziale quello della separazione la mattina io esco mi separo da questi due soggetti che siamo a casa dai controllori e vado a fare le mie esperienze vado a conoscere il mondo ma se il mondo entra in casa mia i due controllori stanno dietro come due gufi a spiarmi che cosa cambia cambia ma vabbè parte l'esperienza da alcuni aneddoti no che magari collegandosi si sentiva il rumore dell'aspirapolvere che la mamma dava perché era un giorno in cui era a casa però mi sono chiesta a volte perché non avessero attivato la videocamera cioè quello può essere una spia nel senso in altri casi no però forse un pudore una vergogna non so veramente forse una difficoltà nel mostrare questo aspetto che effettivamente non trapela quasi mai poi soprattutto da una certa età in poi la scuola poi non so se allora in alcuni scusate allora in molti casi la comprensione la convivenza forzata è stata positiva perché ha fatto ritrovare dei rapporti tra genitori e figli in altri è stata devastante perché sono aumentati i casi di violenza domestica per esempio o sono aumentate le tensioni invece tra genitori e figli per cui la sensazione di vergogna di cui parlava Marina credo proprio di sì e quindi si poteva spengere la telecamera per non far vedere che cosa c'era dietro e forse anche c'è stato proprio un ritiro un ritiro del proprio investimento affettivo verso la scuola perché la situazione non consentiva di fare questo movimento la situazione familiare non consentiva di fare questo movimento di libertà quindi è stato questo mi sentirei di dire quindi vergogna ma anche una difficoltà a lasciarsi andare non c'era uno spazio di privacy per potersi mettere alla prova no? non c'era proprio questo penso sì no io sono d'accordo con quello che hanno detto e poi cioè due cose prima di tutto c'è un problema materiale nel senso che la scuola in realtà è un agente democratico perché ci riporta tutti nello stesso luogo nello stesso modo la scuola pubblica naturalmente voi immaginate che quando si rientra nelle case non sono democratiche perché ognuno ritorna nella dimensione socioculturale economica soprattutto da qui viene accadeva che c'erano delle famiglie in cui magari con molti figli dove non c'era lo spazio c'è chi faceva daddi in bagno è successo c'è oppure chi nel letto di sopra chi nel letto di sotto quindi questo metteva immediatamente creava differenziazione che non era una differenziazione specifica legata a un tratto ma discriminatoria quindi questo è il primo punto il secondo è il fatto che la scuola ha comunque il primo luogo di libertà protetta dei ragazzi e delle ragazze dei bambini e delle bambine da quando sono piccole questa entrata nella società avviene piano piano e la scuola è il primo luogo dove si agisce per cui è venuta meno c'è rientrata dentro le case e questo è stato un problema cioè quando io quest'anno discutevo con me l'unione della questione della maturità del fatto che è stata riproposta una forma di prova scritta uguale a quella di prima della pandemia e quindi ovviamente io dicevo guardate che è stata fatta secondo me perché non vi hanno visto bene qualcuno ha detto ma veramente a me mi sembra che stanno sempre a guardarci anche troppo questi adulti cioè si sentono spesso questa questa oppressione dietro la quale secondo me però c'è anche un'idea che ti guardo perché se non ti se non ti guardo che succede cioè allora sta fiducia viene un po' meno perché chiaramente c'è bisogno che ci sia cioè è come se fosse questo è continuato questa sensazione di controllo devo dire che io la risento a volte da parte questa è stata la parte negativa secondo me non so se è venuto qualche altra no ecco c'è una domanda ok volevo sapere che sto tanto pensato alla fine del progetto di raccontare sulla scrittura e ragazzi eh sì allora alla fine una cosa completamente nuova sì no allora alla fine abbiamo proprio siccome venivano fuori durante poi loro scrivevano da soli però noi ci vedevamo in video lezione perché venivano fuori le loro riflessioni tant'è che a un certo punto ho detto va bene facciamo una cosa ehm sistematica cioè hanno costruito un questionario si sono autocostruiti un questionario sul sull'esperienza cioè su questa ehm pratica di scrittura e con domande questionari con domande aperte che hanno scritto loro a volte anche ridondanti però ho lasciato che fossero loro a insomma erano le loro domande hanno risposto si sono risposti ed effettivamente eh le risposte non sono state tutte uguali però la cosa che mi quello che cioè quello che mi ha colpito è che tutti hanno detto hanno notato questo grande cambiamento dall'inizio alla fine cioè che praticando la scrittura la scrittura cambia e eh non è immediato perché spesso c'è questa convenzione che o uno nasce che sa scrivere oppure vabbè non invece la scrittura è anche quando è un'arte è un'arte che si apprende come tutte le arti e questo loro lo hanno cioè se ne sono resi conto facendolo e poi un'altra cosa altre due cose che mi hanno colpito una è che si sono resi conto che la creatività cioè le idee non finiscono ma più pensi più crei più te ne vengono eh perché quando poi una delle domande era che succede quando che facevi quando non sapevi cosa scrivi momenti difficili non ti vengono in mente le idee per cui qualcuno rispondeva io ho chiesto ho chiesto aiuto ho aspettato questa cosa del tempo tanti hanno detto vabbè lasciavo lì e ci tornavo dopo eh però molti hanno scritto poi mi sono accorto che eh più che io cercavo di farmi venire in mente delle idee più queste idee arrivavano per cui che è una un'attività anche la creatività e poi una cosa che era il motivo per cui io poi ho chiesto loro di scrivere questo questionario è che eh qualcuno si sono messi a discutere tra di loro perché c'è chi diceva che scrivere serve a eh parlare meglio qualcuno diceva no scrivere serve a pensare meglio che eh chi studia didattica della scrittura scrivere serve a parlare meglio io non l'avevo mai letto da nessuna parte però loro poi in tanti erano cioè hanno si sono resi conto che cambia la lingua cambia la lingua quando si scrive scrivendo cambia la lingua quando si parla e tanti di loro hanno scritto che non solo cambia il modo di pensare ma scrivere quindi riflettere ricercare eh cambiano le idee fa cambiare le idee per cui insomma mi sembra che eh loro tutti hanno anzi qualcuno era preoccupato quando ha finito il il processo il percorso dicendo ma se adesso smetto di scrivere poi guarda che l'estate che faccio che poi perdo per cui insomma la riflessione è stata insomma è stata molto grande tant'è che poi quando siamo tornati a scuola loro alcuni di loro a giro senza che io avessi chiesto niente a turno hanno proposto agli altri un laboratorio di scrittura agli altri di cui facevo parte anche io a quel punto perché loro erano i conduttori anzi le conduttrici hanno iniziato due sempre partendo da un testo e poi proponendo delle attività su quel testo perché insomma diciamo che la consapevolezza della scrittura è stata una degli obiettivi che non erano previsti appunto infatti penso che quella parte del libro sia da prendere diciamo da leggere bene anche per chi lavora con la scrittura perché in effetti c'è un come dire si vede chiaro come quando certi processi sono naturali poi tu hai un pensiero su quello che sta succedendo ce l'hai chiaro lo esprimi con una semplicità che poi forse è quello che il segreto della scrittura no? quello di farsi capire di comunicare qualcosa nel modo più immediato possibile ci sono altri altre domande altri spunti allora anche voi senti i video di scuola per farlo di racconti oltre stampati di scuola che vengono anche scritti di allora dunque sui social veri e propri ancora c'è un problema di come dire di normatizzazione dell'uso a scuola per questo è però come su piattaforme digitali sì per esempio noi avevamo una piattaforma digitale condivisa che è ristretta non è pubblica però funziona come funziona facebook e come funziona un po' lento perché era Edmodo però insomma però lì quello lo usiamo e l'abbiamo usato spesso era quello per esempio lo usavamo la mattina noi facevamo l'appello tutte le mattine con una poesia una cosa dove loro dovevano riscrivere sotto delle frasi oppure l'abbiamo usato per fare dei testi collettivi per cui postavamo il testo poi si aggiungeva però è usato insomma lo stiamo stiamo sperimentandolo rende il passaggio al social per cui a renderlo pubblico perché quello è il passaggio c'è un problema di età di insomma lì è più complicato però come strumento digitale lo stiamo ma tuttora lo stiamo usando perché ovviamente è quello che loro usano per cui più come dicevi tu sul sui testi più brevi sì ancora su quelli più lunghi però però c'è chi lo usa loro lo usano chi scrive tanto so che hanno io non li conosco ma ci sono dei siti in cui scrivono storie insieme se le scambiano e quindi insomma è abbastanza praticata non so se ci sono altre altre domande no nel senso allora in quel momento ognuno era veramente cioè in trincea e quindi nel momento in cui lo abbiamo fatto cioè tutti stavano cercando di dopo no la dirigente è stata accogliente alcuni colleghi sono stati cioè ci hanno letto i testi ci hanno dato altri è stato difficile la condivisione non è stata facilissima questo questo avviene sempre purtroppo cioè io penso che si hanno vissuto uno dei problemi che effettivamente c'è nelle scuole no perché di condividere certe pratiche e che la condivisione di pratiche sia una ricchezza quello che noi chiediamo ai ragazzi e alle ragazze di fare una attività didattica cooperante cooperativa collaborativa noi facciamo un pochino più difficoltà a farla però insomma diciamo che in quel momento eramo veramente tutti in trincea cioè lavoravamo e basta adesso piano piano stiamo adesso però in questo momento per esempio proprio dal collega che ha letto poi i testi con lui stiamo facendo un laboratorio a classi aperte di scrittura collettiva a gruppi aperti a partire dal castello dei destini incrociati di Calvino usando le carte loro stanno quindi stiamo cercando di dare a loro queste immagini di collaborazione che noi chiediamo a loro insomma altre riflessioni no insomma se non ci sono altre altre domande altre riflessioni direi che possiamo salutarci ringrazio ancora una volta Alessia per questo splendido lavoro Letizia Marina per questo bel pomeriggio tutti voi per essere stati qui la biblioteca che ci ha ospitato l'asino d'oro per la pubblicazione di questo libro grazie grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie grazie a tutti ragazzi Grazie a tutti